Oggi ti ritrovi in un video build un po' diverso dal solito, perché finalmente è giunto il turno di Alberic, un affezionato iscritto che ci ha mandato la sua build in maniera totalmente diversa dal solito. Stiamo per parlare di roleplay. Se vuoi vedere anche tu una tua creazione sul nostro canale, inviacela alle nostre clip-gmail.com con una breve descrizione della build, la lore del personaggio se ne hai inserita ed un social che desideri condividere. Come ti dicevo, oggi si parla di roleplay e gestirò il video un po' diversamente dal solito, visto che oggi partiamo con una storia, la storia di un chierico che non sapeva ancora chi era in realtà. Skull fin dalla nascita venerava l'albero madre, essendo stato cresciuto dai fondamentalisti dell'ordine aureo. Con il passare del tempo però Skull si rese conto che l'albero madre non era quello che tutti si aspettavano, e sentendosi tradito, fuggì. Fuggì fino a quando non trovò il riparo da una famiglia davvero inaspettata. Il chierico era stato accettato sotto l'ala protettiva di Greyol, madre di tutti i draghi. Durante la sua permanenza dei draghi antichi fu preso come allievo da Greyol stessa, che gli insegnò alcuni incantesimi draconici, ed una volta sul letto di morte gli insegnò l'ultimo incantesimo, il più potente di tutti, il ruggito di Greyol. Scosso dalla perdita della sua più grande insegnante, Skull cercò di togliersi la vita, ma non in una maniera qualunque. Si lanciò in pasto alle fiamme della frenesia, ma, inaspettatamente, le tre dita lo accolsero e gli donarono un nuovo maestro, dal quale imparare nuove arti di combattimento, Vike. Il chierico divenne il suo miglior allievo e come consuetudine esso sfidò il maestro, e dopo una grande vittoria gli viene donata l'arma che accompagnava fin dalla nascita Vike, la sua lancia. Skull, che oramai non sapeva nemmeno se definirsi ancora un chierico, con le sue nuove conoscenze ed armi riprese la sua esplorazione dell'interregno arrivando all'altopiano di Altus, dove fece una scoperta che lo sconvolse e gli aprì la mente. Dopo aver sconfitto un assassino di neri coltelli in duello ed essere sceso nel dungeon protetto dall'osco figuro, Skull trovò il suo albero genealogico. Lì, incisa su un semplice muro c'era la verità. Il nostro eroe era figlio niente di meno che Dialecto e Tish, capi dei neri coltelli, che lo abbandonarono per il suo bene durante la più grande notte del loro clan, la notte dei neri coltelli. Inoltre scoprì che il suo nome non era affatto Skull, ma Alberich, il futuro ammazzadei ed aveva appena ucciso un suo parente. Uscendo dalla tomba pianse il membro del clan che lui stesso aveva ucciso e portò con sé il suo coltello nero. Scorso dal recente evento Alberich tornò alla tavola rotonda dove grazie alla sua cara amica Fia, compagna di morte, modificò il suo nome, rinnegando così la sua vecchia vita. Ora Alberich aveva un obiettivo. Dopo la morte dei suoi genitori, dei suoi insegnanti e di tutto quello a cui era affezionato, partì per un'unica e epica missione, portando con sé i due talismani tipici della sua famiglia, famosi per poter far rigenerare la vita e la mente dopo ogni uccisione. Alberich iniziò a varare in cerca di conoscenza, bramava la conoscenza della nera fiamma. Durante il suo pellegrinaggio trovò un altro membro del suo clan deceduto nelle valli nevate. Dopo aver pianto e sepolto il suo caro che non avrebbe mai potuto conoscere, decise di indossare i suoi paramenti. L'armatura tipica del suo clan non serviva più al suo precedente padrone e così Alberich indossò il set della sua famiglia ed impugnò finalmente il coltello nero che aveva ottenuto ad Altus. Ed iniziò così la sua opera di distruzione, uccise dei e semi dei senza avere alcuna pietà guidato solamente dalla vendetta. Trovò solamente un attimo di pace quando conobbe Ranni, la strega, con la quale, dopo un periodo trascorso assieme, si sposò. Grazie a Ranni, l'unica persona che capiva la sofferenza racchiusa nel cuore di Alberich, il vendicatore trovò la prigione di suo padre. Ci fu uno scontro epico. Tra un colpo e l'altro i due si scambiavano sguardi in fondo teneri. Ed una volta abbattuto a letto ci fu un colpo di scena. Tish, la madre del nostro eroe, era ancora viva, conservata come vocazione da letto stesso. Alberich piarse lacrime di gioia nell'incontrare finalmente la madre e soprattutto perché con il suo aiuto avrebbe potuto finire la sua opera. Con l'aiuto della madre Alberich scalò la vetta ed uccise tutti gli dei che tanto lo avevano fatto soffrire nella sua vita. Ma questi riuscirono comunque a giocare un ultimo tiro mancino prima di soccombere. Al suo ritorno Alberich si trovò davanti un suo grande amico, Alexander, che aveva aiutato a suo tempo a trovare la sua strada e il suo destino, che ora li poneva davanti ad uno scontro. L'ormai noto membro dei neri coltelli a consentì e come potrebbe sembrare ovvio ai molti, vinse. Non con felicità però. Da allora un pezzo del vaso guerriero vaga per le lande assieme ad Alberich. Il nostro eroe, oramai, è in pace con se stesso, è definito e vaga per l'interregno con un'identità ben precisa ed uno scopo, esfruttando tutto quello che gli era stato insegnato. Portava con sé tre incantesimi specifici, l'esplosione frenetica, il ruggito di Grayol e le stelle ancestrali. La storia giunge così al termine ed il roleplay è finito. Si passa ai fatti. Piccola nota prima di cominciare, lo so che durante la storia ci sono delle imprecisazioni di lore, ma le ho già fatte notare ad Alberich quando mi aveva lasciato il commento. Ed in fondo si parla di roleplay, quindi di come ha visto e vissuto il gioco il giocatore stesso. Quindi direi sticcati dagli errori. Seconda piccola nota, mi sono permesso di romanzare un po' la storia inviatomi da Alberich, senza però modificarne il significato. Come puoi giocare questa build anche tu? Nella mano destra sfrutterai il coltello nero come arma principale, che richiede 8 in forza, 12 in destrezza e 18 a fede, scalando E su forza, B in destrezza e C in fede. Come arma secondaria potrai sfruttare la lancia di Vaik, che richiede 16 in forza, 20 in destrezza e 18 in fede, scalando D sulla prima, B sulla seconda e C sulla terza. Nella mano sinistra trovi il sigillo dei Cida, che richiede 4 a forza e 27 a fede per essere utilizzato, in scala D in forza ed un buon S in fede. Il set di armatura, come avrai capito, è quello dei neri coltelli AI completo, mentre nei talismani trovi la scheggia di Alexander per potenziare le tue abilità, il pugnale cremici dell'assassino ed il pugnale ceruleo dell'assassino, per recuperare punti vita e punti abilità ad ogni uccisione. Mentre il quarto slot è completamente a tua scelta. Gli incantesimi che andrai ad utilizzare sono i tre menzionati durante la storia, dunque esplosione frenetica, che richiede 22 a fede e ci permette di ingaggiare i nemici lontani, l'urgito di Grayol, che ti chiede 28 a fede e 17 ad arcano, che riduce potenza d'attacco e difensiva dei nemici. Infine, la build si chiude con le stelle ancestrali, che richiedono solamente 50 punti a fede, e con l'evocazione spiritica di Tish, dei neri coltelli. Non andrò in questo caso a giudicare la build o a cercare di renderla più funzionale per i miei gusti, perché si parla di una build di roleplay, con una storia dietro. Ogni singola cosa inserita in questa build ha uno scopo, e non si può rimuovere. Ho sempre adorato il roleplay, ed Alberich ha tutta la mia stima per avermi donato questo racconto unico che ho potuto condividere con te in un video un po' diverso dal solito. E tu, hai mai fatto del roleplay? Ciao! 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 Ciao!